Custodia elegante ma non eccentrica, quella di Kenzo realizzata da Proporta. Carino il colore. Abbiamo degli elementi magnetici che garantiscono la chiusura e l'estrazione del telefono. Compatibile con molti modelli, con tutti i modelli iPhone, Samsung e LG. Basta far scordere il telefono nella custodia. Perfettamente. Ed ecco qui, protetto in maniera elegante. Per l'estrazione, come detto, basta tirar su la cordicella, un tipo di estrazione ormai molto in voga. Ed eccolo, pronto all'uso il vostro cellulare. Ringraziamo ancora una volta la Proporta. Custodia origami by Kenzo. Consigliata. Autore dei sottotitoli. Grazie a tutti.